Ciao! Il 16 dicembre si sono aperte le iscrizioni a GESHI per il 23esimo World Scout January, in Giappone. Vuoi venire? È un evento che avviene una volta ogni 4 anni, in cui tutti gli scout del mondo si ritrovano nello stesso posto per salutarsi e vivere assieme una straordinaria settimana. Potranno partecipare tutti gli EG nati dal 1999 al 28 luglio 2001, oppure tutti gli RS che al 24 luglio del 2015 saranno maggiorelli, ma non basta l'età, che il reparto deve essere nella tappa della competenza, avere specialità e puntare a un brevetto, e con la sua squadriglia essere in cammino o aver già preso una specialità di scu. Gli RS invece devono aver svolto un servizio continuativo per almeno un anno e aver partecipato ad almeno un evento happy negli ultimi due anni. Anche i capi possono partecipare, ma per maggiori informazioni è meglio andare a leggere il Vade Mecum. Ah, dimenticavo! Bisogna sapere l'inglese o il francese. Per iscriversi bisogna andare nel sito www.gembory.it, nell'area Gesci, sezioni iscrizioni. Dovrai compilare una scheda online con tante domande, ma non ti spaventare. Ti conviene leggerle prima, segnarti le risposte e compilarle solo quando le hai tutte. Attenzione! Le iscrizioni si chiuderanno il 28 febbraio 2014. Dopodiché bisogna aspettare il 15 aprile per avere l'esito delle selezioni. Nel frattempo, sayonara!